Si dichiara dispiaciuto l'amministratore unico di Agiesp S.p.A. Francesco Iadonisi per quanto accaduta la cittadina disabile che ci ha contattati per raccontare la disavventura vissuta al centro di Via Canale, dove si era recata per prendere dei sacchi azzurri e dove spiega di essere rimasta in fila due ore sotto il sole con altre 20 persone senza né servizi igienici né acqua e neppure un posto per sedersi. Anche se qualche sedia c'è, siamo consapevoli che non siano molte, risponde Iadonisi, il quale assicura che è prevista la realizzazione di un restale imparziale dell'area per renderla maggiormente confortevole anche per l'utenza. Verrà pure resa più evidente la segnalazione di fila prioritaria per l'utenza fragile e apposto una mappa che indica i cinque distributori automatici di sacchi azzurri presenti in città vicino alla piscina di Via Manara, Sant'Anna, Beata Giuliana, Borsano e Sacco Nago, aperti 24 ore su 24, senza code. Certo, la dote consegnata a ogni famiglia è basata su un ritiro quindicinale, quindi più se ne ritirano più si pagano, ma in fondo fanno notare ad agiospi i sacchi viole e i cittadini li hanno sempre comperati. Quanto alla tempistica dell'entrata in vigore del ritiro ogni due settimane è legata ai sei mesi di sperimentazione necessari per calcolare la tarip, ossia la tarifa puntuale che dovrebbe entrare in funzione a gennaio, in base al principio paghi i rifiuti che produci. Quanto ciò inciderà sui bilanci familiari ancora però non si può sapere.